...voce che senz'altro non ha dato la voce, questo è un canteautore un canteautore che si sta discrimendo, che si sta scrivendo delle cose che a me personalmente piacciono ma prima che piacessero a me sono piaciute a voi, tanto è vero che sta guadagnando terreno man mano io mi sono felice per lui e per la canzone napoletana Amici, Antoine! Eccolo qua! No, è stato un solo dono, lo faccio dire a te Ritenerà? Ciao Antoine! Prego Emanuele! Allora, eccoci qua, favolosa la tua ultima incisione dalla quale si tornasse si tornasse con l'album prodotto da Vittorio Annuner questa sera canta una canzone che si chiama Scena d'Amore un estratto dall'album, è chiaro mi presento a canto 8, la canzone di Antonio Annuner e Vincenzo D'Agostino Benissimo! Antonio Annuner e Vincenzo D'Agostino Scena d'Amore! Canta! Andiamo! No! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.